Bella ragazzoli e benvenuti su questo nuovissimo video. Ragazzi, per caso avete intenzione di comprare una nuova skin molto fresh e molto trendy e allo stesso tempo supportare me indirettamente? Bene ragazzi, è possibile farlo e il procedimento è molto semplice. Basterà andare su negozi oggetti e cliccare qui in basso a destra supporto un creatore. Vi basterà scrivere semplicemente la parola Croatomist, che sono io, accettare e PAM! Il gioco è fatto ragazzi. Ovviamente ringrazio in anticipo a tutti coloro che decideranno di supportarmi ragazzi, che siete i migliori e inoltre vi invito a lasciare un bel mi piace per questo video. Detto ciò ragazzi, bando alle ciance, ciance alle bante, godetevi il video e buona visione! Ah Martino, mi hai abbandonato stavolta? Ma sei tu quello che mi abbandona sempre! Sì sì, Martino. Scudini? Vieni? No no, la tiro. Comunque che fastidio che vedi la gente tipo che cammina e tu dici ma l'ho ucciso oppure no? Minchia, stanno bruciando tutti? Sì, sono altre. Vabbè, facciamo uscire un bel gameplay, andiamo. Andiamo, vince! No! Donna mia, questo! Che fastidio! Morto no? Ma tu hai bisogno, vince? Tutto ok, giusto? Ma da mai tipo si sta ramellando come non mai? Ok? Non c'è più nessuna, sì. Che pare, sembrava che è partito un'è. Vabbè, sette kill. Ma stai fetando? Sì, sono due. Sono due. Uno palazzo centrale e uno manito. Arrivo? Palazzo centrale è morto. Lo vedo? Sei mosso, sei mosso quando ho sparato, ti rendi conto? Eh, ho visto. HHS, baby. Let's fucking... Uuuuuh. Voglio andare da questo piccolo baby. Baby, arri... No! Arrivo! Dai, vai a cagare. No, vai a cagare. Dai, cazzo. Dai, quad launcher di merda. Non si dico mai. Non mi immaginavo che avessi quel fo... Comunque avevo un medit, vedi? Vai, vai, carriami. Dai, Marti. Vai, carriami. Vai, carriami. Prima ti ho carriato io con 19... Ah, no. Ah, no. Rip video. Rip video, sì. Quale era un bel video, se ti scrivi, va bene? Se... Se dicevi il game. Se la giocavo, più se... Però... Buono. Buono. Sto andando a questi. Cosa stanno vedendo i miei occhi in questo momento? Spiegamelo. Che cosa cazzo è appena successo? Ma siamo seri? Oh, scurì. No. No. Grazie a tutti. 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 Tu ti rendi conto quanti esposivi avevano questi? C'hai fatto il conteggio? No. E fallo? No, non mi interessa. No, non mi interessa. Hai capito? Non mi interessa. Non me ne prendo un cazzo il conteggio, hai capito? No, 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 no. No, no, no. Non aveva le chiave, non aveva le chiave, non aveva le chiave, non era napoletano e non lo faceva partire. No, no, no. No, ho fatto una cosa che non dovevo fare, porca troia. No, ho vincito, ho buttato le SMG per uno scudino, pensavo fossero di più, cazzo. Ma perché io li ho dovuto inventare? È normale. Ho preso il chug che dovevo prendere il chug e quindi ci sta. E lo scudino è il problema. E uno soltanto. Allora, ma che gli ho fatto da malacu... Oh! Ah! Vabbè, c'ho lo scartorato. No, ti immagino che c'è uno di te l'albero che fa... Eh! Eh! No, no, no. Sì, 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 raga, uccidetele per favore a 19 kill. Ce la fate? No! Dai! Dai! Non fai di essere così crudele con me. Incevo io un SMG, te prego. Senza SMG mi sento una ragazza persa. Nel vuoto. È vero, dai, ci sta... Non si è giocato, sono con pompa. In squad? Con pompa è... Sì. Non voglio stare a ficcare le ore. Non t'ho sparato, va bene? Stai calmo. Non c'è... Non c'è... Ma mai dici di staccarlo? È questo, no? Non c'è... Vai, Marti, vai, vai, vai. Affanculo me ne vado. Hai quelli super, attento. Non c'è... Non c'è... Non c'è... non ho più mazzo, non ho più mazzo, non ho più mazzo guarda sì mi rimane che questo deve ricaricare il martello, vedo i coscemi ho uno vio, ho 19 kg, vince no 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 no, però io ho detto, fatele fare 19 kg, non va bene no, vince, non ne hai visto pure, vero? eh no, vedi sotto magari pallone non ne hai? magari tanto sono in safe, quindi cazzo ne prega io ballo, ciao bello minchia dove sta, scusami eh, da sud per forza, questo è sicuro, no? sì prova a mettermi ah, ok, eccolo, eccolo vince martì baby, let's go oh, me l'ho giocata bene, non dire niente, per favore oh, chi cazzo ti sta dicendo, anzi iii, è bello dai, però non ballo, perché ho detto, fatele, fatele saluti YouTube per cortesia, lo saluti? vai a cagare su YouTube tutti quelli che si ora si crederà dissimpro questo e non taglierò questa parte hi um Grazie a tutti.